Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, esordisco ancora dicendo che a questo mondo non si può mai stare in pace, perché stavo tranquillamente rispondendo ai blogger, ai vari commenti dei blogger, stavo ultimando il mio lavoro, se non che mi arriva un video, un video, me lo manda l'amico NeoGeo71, un video fatto da Leonardo Facco Editore, il video è intitolato Renzo Bossi e i 12.000 euro al mese, ecco qua, Leonardo Facco Editore, Renzo Bossi e i 12.000 euro al mese, io sono trasecolato, ho detto bah, qua bisogna sincerarsi eh, sulla attendibilità della notizia, e allora scrivo all'autore del video, Leonardo Facco Editore, per piacere avrei bisogno del link dell'articolo commentato del video, perché vorrei dire anch'io qualcosina, e Leonardo Facco Editore mi manda subito il link, il link è tratto dal grande sito Italmedia, Italmedia, ed è questo, ed è questo, Italmedia, Italmedia lo vedete, vero? Bene, e la notizia francamente la lascia molto molto perplessi, io ringrazio tanto Italmedia, ringrazio tanto l'amico NeoGeo71, ringrazio tanto l'amico Leonardo Facco Editore, NeoGeo poi dopo mi ha scritto pure un altro messaggio molto lungo eh, molto lungo, un messaggio molto lungo, mi ha scritto molto lungo, dove fa delle sue osservazioni personali, ora io avevo già avuto occasione tempo fa di scrivere, cioè di fare un video sul caso del giovane Bossi, non ricordo il titolo, ma è facile trovarlo, Bossi Junior, non ricordo bene, in occasione della sua seconda o terza bocciatura per prendere un diploma, fra l'altro il diploma è stato preso mi pare in una scuola parificata, dove egli, il giovane Renzo Bossi dovette ripetere l'esame per tre volte e poi conseguì il diploma, ora è inutile infierire su Umberto Bossi, che ha fatto anche delle cose interessanti, ha portato avanti l'antico discorso di Carlo Gattaneo sul federalismo, però avvengono delle cose, dei fatti che contrastano con le parole, io tutto mi aspettavo da Umberto Bossi e me ne dispiace tanto eh, tranne che saltasse fuori un caso di familismo, il familismo che noi rimproveriamo alla nostra società, la nostra società familistica, nepotistica, cooptativistica e via di seguito, qua salta fuori che il giovane Rampollo, il giovane Rampollo ha tra l'altro nella questione degli esami di Renzo Bossi, io ero stato anche molto tenero con il giovane, avevo detto che tutto sommato questo giovane era stato distratto dagli studi perché papà e mamma lo portavano troppo spesso in giro alle manifestazioni leghiste, era stato disturbato negli studi, gli erano stati dati sin da piccolo degli incarichi che non gli consentivano di studiare. Va bene, ma adesso qua la notizia però, però la notizia è una notizia come si dice proprio da prima pagina, perché dal capo della Lega, dal fondatore capo della Lega, Umberto Bossi non ci si aspettava una cosa di questo tipo, cioè sembra che sia stato dato un incarico e Renzo Bossi membro di un osservatorio dell'Expo di Milano e per il quale sarebbe retribuito con 12.000 euro al mese e io qua devo di nuovo far vedere l'articolo, l'articolo di Italy Media, Italy Media è qualcosa di incredibile. Si fa fatica a credere che Umberto Bossi possa essere caduto in questa grandissima tentazione di svolgere egli stesso un'attività di tipo familistico. Tutto poteva fare a Umberto Bossi ma non dare a questo suo giovane figliolo, certamente che lui lo ama questo figlio, ma non poteva Umberto Bossi prestare il fianco alle critiche che giustamente adesso perverranno contro di lui da parte della stampa italiana e della televisione, cioè chi vuole riformare una nazione che certamente è malata, molto malata e i mali dell'Italia sono di vecchia data, chi intende compiere questa azione non si può permettere di dare al proprio figlio, giovane, molto giovane, diplomato a fatica, dare un incarico di 12.000 euro, poi sembra che ci sia anche un altro incarico di portaborse di un parlamentare leghista nel Parlamento europeo. Io tempo fa lessi che Umberto Bossi era molto arrabbiato con la stampa italiana perché la stampa italiana continuava a infierire sul suo figlio Renzo e per cui Umberto Bossi aveva deciso di mandare a studiare il figliolo in un paese straniero, mi pare in Inghilterra. Non mi pare che sia questo il modo di comportarsi, mi dispiace tanto, ma torniamo di nuovo alla questione della famiglia monogamica patriarcale. Vi ho sempre detto che la famiglia monogamica patriarcale è la cellula che moltiplica all'infinito lo stato patriarcale. Lo stato patriarcale non ci sarebbe più se non ci fosse quella cellula fondante del patriarcato che è la famiglia monogamica patriarcale. È dentro la famiglia monogamica patriarcale che si agitano tutte le tensioni relative alla proprietà privata. Il figlio è proprietà del padre, però lo mette al mondo la madre, però il padre, benché la madre abbia tenuto il bambino per nove mesi nel proprio corpo, gli dà il nome. Poi il papà e la mamma litigano per la proprietà del figlio perché ciascuno di loro vorrebbe che il figlio crescesse in un certo modo. La famiglia come moltiplicatore all'infinito delle infamie del patriarcado e lo stesso Umberto Bossi che è nato come severo fustigatore dei costumi italiani è caduto nella stessa trappola che la famiglia monogamica patriarcale prepara ad ogni papà, ad ogni mamma e ad ogni figlio. Il figlio di Umberto Bossi deve avere un tenore di vita pari al papà, senza pensare però che il papà ha raggiunto un certo tenore di vita dopo tanti sacrifici, dopo una lotta politica durata decenni. Non è giusto che il figlio di Umberto Bossi, Renzo Bossi, possa beneficiare di quello di cui ha beneficiato il papà dopo un lunghissimo, durissimo chirocinio politico. Cari amici, io non sono stato capace di tacere su questa notizia, per me è una notizia sconvolgente, cosa volete che vi dica? Non sono ancora preparato a queste notizie, ma dietro ci vedo sempre lo zampino della famiglia monogamica patriarcale, perché Umberto Bossi con tutto rispetto non ha tanta simpatia per i meridionali, però è sposato con una donna siciliana. Va bene? Poi, quindi fatti e parole, parole e fatti. Poi quando combatte contro, scusi, Roma ladrona ha ragione a combattere contro Roma ladrona, però se si combatte contro Roma ladrona non si possono fare certe cose. Questo è un episodio, mi dispiace onorevole Umberto Bossi, mi dispiace, ma questo è un episodio che come si dice grida vendetta al cospetto di Dio. Se lei aveva delle simpatie tra i giovani, tra i giovani ora queste simpatie le perde. E perché le perde queste simpatie? Per un amore eccessivo nei confronti di quella proprietà privata che è suo figlio. Va bene cari amici, perdonatemi, ma non sono stato capace anche questa volta di tacere. Io ringrazio l'amico NeoGeo71 e ringrazio anche Leonardo Facco Editore. Va bene? A tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.